Resta agli arresti domiciliari, l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno infatti confermato l'amitura cautelare messa il 18 aprile scorso dal GIP, il Tribunale di Avellino Giulio Argenio è rigettato il ricorso della difesa, rappresentata dai penalisti Luigi Petrillo e Concetta Mari, che in una memoria di 50 pagine avevano sostenuto l'insussistenza del quadro indiziario nei confronti dell'ex sindaco. Le motivazioni della pronuncia, che di fatto conferma l'impianto accusatorio alla procura di Avellino, saranno rese note entro i prossimi 30 giorni. L'udienza di ieri è cominciata intorno alle 9.15 e tre ore e mezzo dopo i giudici si sono ritirati in Camera di Consiglio. Il PM Vincenzo Toscano, presente in aula nei giorni precedenti, aveva depositato nuovi atti sulla base di un'informativa redatta dagli investigatori dei Carabinieri e la Guardia di Finanza successiva all'interrogatorio di Garanzia di Festa, ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare ai domiciliari. Nella tarda serata era stata resa nota la decisione sul ricorso presentato da Fabio Guerriero, ma non quella sull'ex sindaco, il segnale di una decisione, quella su Festa, che si annunciava più complessa e articolata. A differenza degli altri due coindagati, Filomena Smirai e Fabio Guerriero, i reati provvisori contestati all'ex sindaco sono molto più impegnativi. Oltre alla rivelazione del segreto d'ufficio, deve rispondere di peculato, depistaggio, tentata induzione in debita e corruzione. Grazie.